Buongiorno, siamo in compagnia di Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII. La grammatica della famiglia, se ne è parlato molto oggi perché è così importante anche nel sociale e nell'accoglienza del disagio? Sì, le case famiglie della Comunità Papa Giovanni XXIII evidenziano proprio l'importanza insostituibile della figura paterna e materna, che è il fondamento di ogni famiglia, è il fondamento di ogni accoglienza e poi anche la complementarietà delle persone che vivono nella casa famiglia, dal neonato al bambino, al giovane, al ragazzo adulto, all'anziano, cioè questa diventa risorsa, diventa un dono e quindi la casa famiglia è il luogo del dono, è il luogo della responsabilità, è il luogo dell'accoglienza, dell'apertura. Il riconoscimento, è importante essere riconosciuti come persona, l'abbiamo vissuto anche nel silent play ed è importante riconoscere il lavoro svolto, quello che fate nelle case famiglie che a volte non si sentono riconosciute. Sì, quando un bambino, una persona che ha vissuto un'esperienza di sofferenza, si sente amata, si sente accolta, si sente riconosciuta, mette fuori i propri talenti, le proprie capacità e li mette a frutto per il bene comune della sua famiglia, della casa famiglia, ma della stessa società, cioè ognuno mette fuori il meglio di sé quando è amato, quando è accolto. È iniziato un dialogo con la Regione Veneto, cosa si apre da oggi? Noi chiediamo alla Regione Veneto, come tutte le regioni d'Italia, anche al Governo nazionale, di riconoscere questa tipologia caratteristica nel mondo socioassistenziale, nel welfare italiano che è la casa famiglia, perché risponde con una competenza anche professionale con una risposta però di tipo familiare, tipo accogliente che accudisce la persona, la valorizza, la fa crescere, l'accompagna là dove è possibile fino all'autonomia. Grazie.